Siamo qui con i grandi cacciatori Giuseppe Canina, Giorgio Volcato e Zichino, prima giornata di Guagli, prima giornata, un'oretta giusto per passare il tempo, guardate qui, un grande cacciatore, guardate la merce, merce fresca, fatta oggi con le patate, primo piano, facciamo vedere anche i nostri campioni, Luen de Cucciola, quattro mesi, già ferma, poi abbiamo Babi, Zac, vieni qua Zac, va, vieni giù, Babi e Zac, i numeri uno, e poi c'è il terrore, vieni qua Rambo, Vieni qua Rambo, vieni qua, vieni qua, bravo Rambo, bravo, voglio vedere come c'è il terrore, vieni, ecco qua Rambo, questo è Rambo, quando ferma questo, state tranquilli che la merce ci si cura, all'appuntamento alla prossima giornata, arrivederci, faccio